Paola, finalmente si torna a parlare solo di pallavolo? Finalmente, detto bene, perché insomma era tanto tempo, dopo un anno fuori dai campi, fuori dall'ambiente, senza mai toccare un pallone, ci voleva. Per me è come rinascere, è rinata la mia caviglia e rinasco anch'io, quindi da adesso è tutto solo che nuovo, è solo che appassionante e insomma speriamo di fare ancora tante belle cose. Hai scelto una piazza molto ambiziosa che rinasce anche lei quest'anno, dopo i problemi dell'anno scorso, cosa ti aspetti dal Tempio del Vole? Modena è una piazza importantissima, direi effettivamente come hai detto te, questa è la storia della pallavolo italiana e anche per questo ho deciso di venire qua, perché voglio rimettermi in gioco, voglio ricominciare da zero con una società che ha comunque degli obiettivi, magari non immediati, ma sicuramente nell'arco del tempo e voglio lavorare bene per tornare ad essere grande, io con loro. Che campionato ti aspetti questo? Un anno un po' particolare? Sono cambiate tante cose nella stagione italiana? Che cosa ti aspetta? Ma io penso che sarà un anno dove un po' forse a sorpresa faremo delle belle cose, in questi giorni sono arrivate tutte le ragazze, è una squadra molto motivata, una squadra che ha veramente voglia di crescere, una squadra che mette tutto nel fare bene in campo, proprio dall'A alla Z, quindi sarà per noi una bella stagione. Per scaramanzia non posso dire niente, se no vengo fucilata appena esco da qui, però penso che sarà veramente una gran bella stagione. Di volte indietro, una carriera fino adesso molto lunga, ma che potrebbe essere, che si può appunto riaprire adesso, ti vedi indietro e cosa guardi della tua vita, di questi anni passati con la pallavolo? Beh, sicuramente ho ottenuto tante soddisfazioni, nel senso che comunque nella mia carriera ho vinto tanto, sono stata in squadre molto competitive, quindi la pallavolo mi ha dato tanto, però penso di aver dato anche io tanto alla pallavolo e questo è quello che voglio dal futuro, dare ancora tanto e ricevere ancora tanto, quindi appunto credo che la mia carriera non sia finita qua, non metto un punto, ma è semplicemente un punto e a capo. Sono stati anni un po' travagliati, non solo per te personalmente, ma anche per la pallavolo italiana, che ha avuto squadre che spariscono, da dentro come si vive questo momento di difficoltà? Beh, sicuramente è un peccato, è un peccato per il movimento, è un peccato per lo sport, perché comunque queste cose rovinano anche forse un po' di quella passione che c'è anche da parte nostra, nel senso che ovviamente vedere società che saltano, vedere campionati che rischiano di essere ad un tratto, diciamo, fatti saltare perché non ci sono più società o comunque non vengono rispettati gli accordi, ma è una cosa veramente brutta, brutta perché ti porta a pensare a tutto quello che nella nostra testa non ci dovrebbe essere proprio per lavorare invece serenamente. Un anno da spettatrice anche per la nazionale, hai guardato le partite dell'Italia, hai sofferto in televisione? Sì, ho guardato le partite, mi è spiaciuto tanto perché comunque, insomma, ovviamente tifavo per loro, le ragazze le conosco praticamente tutte e secondo me era un gruppo molto molto buono, ho visto comunque dei gran miglioramenti, è un gruppo giovane, ci può stare, insomma, bisogna farsi un pochino di pelle prima e poi si vedrà. L'anno prossimo è il Mondiale in Italia, è impossibile non pensare a quelle che la pelle se la sono fatta in questi ultimi anni, tornare col Mondiale in Italia in nazionale sarebbe un sogno per Paola Cardullo? Beh, sicuramente sì, nel senso che anche stare fuori dalla nazionale negli ultimi anni per me è stato molto brutto, anche perché purtroppo non è mai stata una scelta, ma è sempre stata una cosa dovuta a infortuni o a impossibilità, quindi rientrare con la nazionale quest'anno proprio per il Mondiale in Italia per me sarebbe un sogno, però è una cosa che al momento non metto immediatamente nei miei pensieri perché c'è prima tutta una stagione, c'è prima da vedere anche la mia caviglia come starà, ci sono tante cose da valutare, poi ovviamente non sta a me decidere, vedranno poi i tecnici e eventualmente valuteremo insieme. Però ci puoi raccontare cos'è per te la maglia azzurra alla quale hai dato tanto e alla quale hai ricevuto anche grandissime soddisfazioni? Eh, la maglia azzurra, come dire, quella maglia tipo la divisa di Superman, che quando c'è quella maglia addosso, cioè fa delle robe incredibili, quindi è difficile da descrivere. Sicuramente indossare quella maglietta e sentire l'inno nazionale prima di una competizione penso che sia una delle esperienze irripetibili della vita. Spero di poterla riprovare. Grazie. Grazie.